ragazzi allora buona serata a tutti buona serata a tutti innanzitutto vi ringrazio a nome mio ma anche di tutta la Juvengers Club per i pensieri appunto per quanto riguarda Luca Casarino io adesso abbiamo fatto una live oggi da Gianni però una live sul mio canale dedicata a lui più scherzosa ricordando un po' diciamo i momenti più facendo anche le cose che lo divertivano magari la farò la prossima settimana non so se a Pasquetta, Martedì, Mercoledì non lo so adesso vedo però diciamo che glielo devo ma lo faccio con molto piacere perché comunque io l'ho detto oggi nella live di Gianni in questi quasi 9 anni di YouTube poche persone mi hanno dato un qualcosa in più mi hanno migliorato non solo a livello di YouTube ma anche a livello appunto di competenza calcistica ma anche poi rispetto a quello che ci dicevamo in privato prima appunto che iniziasse a stare male quanto mi stimolava lui quanto cercava di credeva più lui in me che io stesso quindi l'ho scritto anche nel post quindi sotto questo aspetto veramente persona eccezionale ma non voglio adesso dilongarmi troppo in cose che ho già detto e che dirò meglio magari in una live dove la quale la dedicheremo precisamente a lui ma in maniera ripeto più scherzosa ecco rispetto a questi ultimi due giorni perché è stato veramente un fulmine a ciel sereno per quanto mi riguarda perché avevo veramente è uno di quelle poche persone che ho conosciuto su YouTube che mi ha veramente migliorato a livello anche di vedere il calcio di informazioni che mi riportava e poi appunto per quanto riguarda a livello personale per gli stimoli che mi dava in privato quindi niente andiamo avanti e poi appunto la prossima settimana faremo una live per lui detto questo io personalmente vi ringrazio ovviamente perché avete avuto modo di conoscerlo nelle nostre live nelle mie live e l'ho detto anche oggi è riuscito a riunire un po' tra validi attribe e quant'altro un po' tutta la crew nel senso chi c'è stato chi c'è ancora e quant'altro quindi sono una grande persona e una persona veramente alla quale potevi volere solo che bene poteva riuscire a fare una cosa del genere quindi niente questa piccola premessa gliela dovevo e ve la dovevo anche a voi ringraziandovi appunto per i tanti pensieri nei suoi confronti e niente andiamo avanti dai allora allora la partita la partita Lazio Juventus 2-1 Allegri ieri aveva detto in conferenza stampa che poteva finire 0-0 e questo mi faceva pensare che Allegri anche se non c'era impostava la squadra per scendere in campo per lo 0-0 e quando scendi di fatto è stato così se voi guardate prima che andasse in vantaggio la Lazio noi di fatto siamo scesi per difendere il risultato cioè noi siamo scesi in campo per lo 0-0 come succede di solito quando scendi in campo per due risultati utili su tre poi prendi il terzo ed è giusto così è giusta la sconfitta è giusto l'aver perso in questo modo qua guardatevi l'azione del loro secondo gol noi quando le rivedremo l'abbiamo vista una mezza azione quando siamo passati definitivamente al 4-3 io credo che anche con Costice si possa giocare col 4-3 è una convinzione italiana che i giocatori possono cioè dalle altre parti non dico che snaturano Allegri snatura ma in maniera negativa c'è qualcuno invece che cerca di trovare altre doti da parte dei giocatori ovvio senza Chiesa devi mettere Costice come stanno attacco ma non si può continuare con questa cazzo di difesa 3-5 perché poi nel primo tempo abbiamo comunque giocato siccome meno a difesa 5 ma perché Costice si alzava molto quando scendeva giocavamo con una linea 5 comunque poi quando è uscito ovviamente siamo passati al 4-3 definitivo e totale molti diranno che il secondo gol l'abbiamo preso in contropiede no non l'hai preso in contropiede perché ti sei sbilanciato e roba del genere perché non sei abituato a fare un pressing corale perché lì ci sta che tu perda un rimpallo un duello o quant'altro ma non ci sta che la difesa sia così distaccata e staccata dal centrocampo se vi guardate lo spazio che c'era tra difesa e centrocampo una squadra che pressa alta non può permetterselo e una squadra che è impostata per la difesa 3-5 ovviamente con Allegri ogni volta quando è che mette la difesa a 4? quando è che passa a 4-3? è successo a Napoli vi ricordate abbiamo perso 5-1 succede quando noi abbiamo sempre l'acqua alla gola e questa cosa qui è inconcepibile ecco altra cosa tra l'altro tornando all'inizio Luca voleva che io continuassi con le analisi tattiche probabilmente le riporterò adesso non so se subito domani per Pasqua tra l'altro auguri a tutti e alle vostre famiglie però magari cercherò di magari non sempre però di portare anche qualche analisi tattica che portavo all'inizio dell'anno che poi ho perso anche un po' di entusiasmo con questa Juve sinceramente però è una cosa che comunque lui ci teneva e quindi cercherò di riportare guardate allora se voi guardate ripeto il gol che poi appunto quando abbiamo messo il 4-3 al di là del gioco o del non gioco che con Allegri purtroppo i meccanismi non li vedremo mai però hai alzato il baricentro non puoi giocare sempre con l'intensità lì 90 minuti questa è una cazzata perché in Inghilterra andatevi a vedere fanno anche 100 minuti così e giocano una volta ogni 3 giorni quasi sempre gli stessi anche nelle Fee Cup o nella Carabao Cup quindi questa è una grandissima cazzata però vabbè ci sta non puoi giocare sempre va bene però non puoi neanche giocare su 90 minuti 85 in difesa 85 con un pressing passivo 85 con una fase in un possesso di posizione questo purtroppo io credo che i giocatori la Juve li abbia per fare un gioco non dico di dominio totale però un gioco molto più propositivo molto più dominante sicuramente rispetto a quello che vediamo adesso quindi è inutile girarci attorno questa è una cagata che si dice non abbiamo i giocatori perché quando avevamo i Pogba Vidal Pirlo voi vi ricordate il gioco di dominio? io mi ricordo che li partiva meglio perché tecnicamente erano forti e non serviva a insegnare nulla a loro perché sapevano già i movimenti e i palloni da dare quindi questo poi ragazzi per quanto riguarda i singoli vabbè Alessandro Penoso è inutile girarci attorno Vlaovic servito poco fatalità passi al tridente quando Vlaovic è sempre stato abituato nell'attacco a tre proprio quando Levi Vlaovic vedete anche qua che poi Milik non è entrato benissimo io credo che gli unici due sufficienti sono Fagioli e e Chiesa Chiesa siccome è il migliore in campo è entrato veramente con uno spirito che che spaccava tutto Di Maria ha fatto due buoni appoggi due buone due buone due buoni aganzi e basta però è poco ma fatalità quando è che ha iniziato a giocare bene Di Maria e lì cos'è che vi fa capire che sia il giocatore più forte il campione comunque ha sicuramente più qualità degli altri ha sicuramente la possibilità di decidere le partite di più in qualsiasi modulo giochi no ma quando è che ha iniziato a giocare meglio Di Maria quando siamo passati il 4 e 3 quando abbiamo alzato di più il baricentro e cazzo ci sarà un motivo o no e quindi questo va detto noi partiamo sempre così passivi poi se siamo in svantaggio cerchiamo alla disperata con più intensità alzando il baricentro un po' di più e cambiando modulo mettendo un modulo un po' più offensivo che poi con Allegri se tu metti il 4 e 3 dall'inizio con il modo che ha di pensare lui diventa un 4-5-1 puntuale costante e non è vero che ogni volta che tu metti il 4 e 3 un 4-5-1 andate a vedere il Liverpool ok adesso uso il 4 e 3 il Liverpool faccio un esempio voi guardatevi il Liverpool il Liverpool l'ho già fatto sto discorso quando è in fase non possesso ci sono Salah e l'altro esterno che può essere Luis Diaz che può essere Nunes quando gioca da esterno o può essere Diogo Iota quando gioca lui da esterno metteteci chi volete questi due esterni si accentrano e diciamo a modi di piramide praticamente e aiutano la fase non possesso l'attaccante quando invece sono in fase di possesso i due esterni si allargono di più e cercano appunto di sfruttare le fasce con però gli inserimenti anche da seconda punta tra virgolette di Salah quindi questo questo è il modo poi a volte sicuramente Salah o l'altro esterno scendono sulla linea dei centrocampisti ma non è una costante quindi non è vero che ogni volta che si gioca con il 4 e 3 per forza bisogna giocare in fase non possesso con il 4-5-1 questa è una grande cagata che si dice solo qui in Italia no? come i terzini fluidificanti che si criticano a prescindere che potrebbero giocare solo come ali di centrocampo è una cavolata questa comunque ragazzi Sarri per la prima volta credo prima no seconda volta perché ha vinto anche quella volta in casa nostra con il gol di Colibali quella volta partita sporca che questa volta ha dominato siccome la Lazio ha strameritato di vincere abbiamo avuto delle folate semplicemente di inerzia no? colpi di reni come li vogliamo chiamare per il resto per quanto riguarda gli altri individui gli altri giocatori Rabiot a parte il gol ragazzi mi ha fatto cagare anche oggi ultimamente Rabiot male Locatelli ecco andiamo sugli episodi andiamo sugli episodi allora il gol il primo gol della Lazio per me non è da annullare cosa che invece era da annullare il gol dell'Inter in Coppa Italia perché? perché lì c'è proprio un giocatore che appoggia appoggia le mani sulle spalle e quello è atteggiamento antisportivo da regolamento e affossa Kostic e lì per me c'è fallo qui c'è Alexandro che sente il tocco vede che non ci arriverebbe mai e si lancia con la speranza che gli fischi il fallo invece là fosse stato in piedi fosse stato scavalcato avrebbe comunque avuto il tempo di contrastare Milinkovic e Savic o comunque faceva appunto un passo indietro e andava a sentire un po' dove era il giocatore invece non ha fatto questo l'altra cosa a fine primo tempo e siamo stati graziati lì un altro intervento da vigoria sproporzionata ok l'intervento di Locatelli dove è stato munito lì è un intervento da rosso è strano che non siano andati a vedere il VAR e bisogna dire le cose come stanno perché l'altro giorno ho elencato due episodi che per me ci sono andati contro oggi ci sono due episodi anzi un episodio che ci è andato a favore perché l'altro alla fine è stato valutato regolarmente quindi per me la Lazio non ha rubato nulla leggo complotti per me ragazzi sul campo vince sempre chi merita i complotti magari li fanno con i punti penalizzazione ma sul campo ragazzi se tu meriti vinci anche se l'arbitro sbaglia contro di te l'abbiamo dimostrato quando eravamo i più forti quindi cerchiamo di o quando meritavamo quindi cerchiamo di di non fare un po' i napoletani gli interisti e quant'altro per il resto difensori Gatti benino Bremer bene ha salvato un intervento ha fatto un salvataggio importante però c'è da dire c'è da dire che sul gol di Luiz Alberto il gol di Zaccani su assist ad esempio Luiz Alberto tecnicamente è bravo ok ma non è De Bruyne ok quando mi dicono ma puoi fare quel calcio solo con i campioni Luiz Alberto gioca alla Lazio non gioca a Real Madrid non gioca al City gioca alla Lazio ed è da una vita che è alla Lazio quindi significa che è un buon giocatore ok un'ottima tecnica ma non è un campione eppure queste giocate le fa eppure quell'azione là è stata un'azione stellare eccezionale come noi abbiamo fatto l'azione con Fagioli ok che l'ha tirata alta quello non è un gol sbagliato e sapete bene che a me non piace Fagioli non c'è però tra il fatto che i giovani non mi piacciono io ho detto che per me a livello di ruolo può essere più importante Barrenecea però tra Fagioli e Miretti dall'inizio dell'anno ho detto che preferisco a livello di qualità Fagioli tutta la vita Fagioli comunque là per me non è un gol sbagliato lì poteva fare di più sicuramente ma i gol sbagliati sono altri secondo me e e niente è tutto tutto qua quindi io sinceramente magari ci si aspettava magari la solita sculata di Allegri contro Sarri anche se non c'era in panchina appunto Allegri però di solito vince vince così no vince adesso non parlo di sculate però vince dico vince episodicamente contro Sarri no non è uscito l'episodio stavolta e la Lazio ha strameritato di vincere c'è poco a fare punto quindi adesso la Lazio ha meno uno da noi perché noi guardiamo la classifica vera che è quella che ci vede secondi e e niente la Lazio come vi dicevo l'anno scorso al secondo anno con Sarri avrebbe fatto molto bene e sta facendo molto bene perché è terza vabbè detto questo ragazzi io vi auguro ah chiudo parentesi Zazzaroni ha riportato una cosa che mi hanno riportato anche alcuni tifosi della Juventus adesso io vorrei riscontri audiovisivi nel senso che si parla del fatto che gli interisti per 20 minuti durante Juventus Inter di Coppa Italia durante Juventus Inter di Coppa Italia abbiano iniziato a cantare e abbiano cantato Cori sull'Eisel a fuori Liverpool io adesso voglio perché non c'è un io mi chiedo allora voi autoattaccate la vostra curva praticamente riprendendo e pubblicando video del cazzo ok sapendo che sarebbe andato l'agonia per due individui e non riprendete il settore ospiti quando canta Cori sull'Eisel perché se fosse vero cazzo un video cioè un video nel 2023 non è possibile che non ci sia un video quindi io prima di accusare quant'altro cazzo però viene fuori a Zazaroni che comunque insomma gestisce il Corriere Sport quindi non ho secondo me non ho motivo per dubitare sotto questo aspetto però vorrei vedere appunto un filmato audiovisivo e spero di vederlo e di giudicare perché se dovesse venire fuori allora la prossima settimana si tornerà a fare polemica in questi due giorni non ho non tanto per motivi che sapete però la prossima settimana si tornerà a fare polemica voglio se qualcuno riesce a procurarmi qualche filmato audiovisivo di quel settore ospiti durante Juventus Inter di Coppa Italia dell'altro giorno mi farebbe un grandissimo favore ok che poi ci penso io a livello di appunto video a smerdare un po' gli interisti se non c'è se non è vero è inutile no attaccare se non ci sono le prove tutto lì detto questo buona serata a tutti sempre e comunque fino alla fine Forza Juventus e ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti ragazzi e ciao Luca